Il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, lancia l'appello al governo per la questione migranti. Il primo cittadino denuncia in particolare lo stato di abbandono dei comuni nella gestione dell'emergenza. Un richiamo fatto soprattutto in vista del Consiglio dei Ministri di oggi. Una questione, quella dei migranti, su cui anche Teramo, a detta del sindaco, risente di vuoti decisionali a livello centrale, da cui derivano criticità e situazioni al limite, come il caso dei ragazzi pakistani, che sono in attesa dei documenti che li riconoscano nello status di rifugiati, ma nel frattempo però dormono in strada. Chiediamo assolutamente che si fronteggi la situazione in modo serio, in modo organico, consapevole e adeguato alle esigenze che in questo momento abbiamo e soprattutto per prevenire una situazione drammatica che potrebbe peggiorare nei prossimi mesi. Tutte le città vivono oggi questa situazione di grandissima difficoltà, a prescindere dal colore politico, quindi è un'esigenza istituzionale forte, un'esigenza sociale, di comunità, potenziare le risorse, potenziare le strutture da mettere a disposizione dei territori per evitare che le città diventino un luogo di ulteriori tensioni sociali che si aggiungono ad altre problematiche che ovviamente in questa fase stiamo vivendo. Quindi anziché chiudere, ridurre i posti nei SAI e nei CAS occorre assolutamente incrementare il sistema di accoglienza e di integrazione, renderlo organico, strutturato. Teramo è sempre stata un modello in questo senso con un SAI che ha funzionato nel dialogo con le prefetture, con i CAS, è necessario appunto che si intervenga e si intervenga subito. Una problematica su cui il primo cittadino d'Alberto, nonché presidente regionale dell'Associazione dei Sindaci, annuncia di essere pronto ad alzare il livello di protesta se non arriveranno risposte a stretto giro. È un'esigenza dei territori, quindi l'Anci Abruzzo nell'ottica ovviamente sempre della collaborazione istituzionale con il governo si pone assolutamente in linea con tutte le altre Anci e con tutti i sindaci d'Italia, quindi a cominciare dal sindaco di Teramo insieme a tutti i sindaci abruzzesi con i sindaci d'Italia. È chiaro che la collaborazione istituzionale presuppone una risposta positiva da parte del governo, cioè ascoltare i sindaci, ascoltare i territori perché in questo momento i sindaci italiani sono lasciati da soli per gestire delle problematiche che non competono direttamente appunto i territori.